Francesca e Riccardo si coccolano il loro Edoardo e Francesca ci fa naso naso, splendore. L'aspirazione di prima, hai degli occhioni stupendi, bellissimi, bellissimi, pure i sorrisoni, guarda, non è che i sorrisoni belli. Edoardo a papà Ricchi gli fa tanti sorrisoni. Mentre con mamma ci fa naso naso, bellissimo.